Vai, prego! Vai, vai! Scusate che hai detto questo? Bravo! Ah, chi è qui? No, Artur! Se lo Artur c'è, non c'è praticamente come Artur. Ah! No, Polo! Che ho fatto? Ah, no! Ah, cogliere il pesce! Sì! Ma no! Sì! Ma l'ha dato caso! No, me l'ha ricordato, ho fatto un carico! Non l'abbiamo girato questa! Eccolo! Ma è in posizione diversa, però è sempre lui, dai! Tre volte come c'è! Ma perché sia quelli stessi? Però è la quarta! Sì! Ancora che questa è la quinta! Anche quella è come 19 volte! Eccolo! Vedi che ce l'ho! Eccola lì! Dai! Dai! Ancora il panno! No! Ah sì! Era qui! Era questa qua! Eccola! Che è parlata! La sfida del memory! la vince i punti il paragone